Allora se avete visto la preview Adesso andiamo con qualcosa di più cazzaro Della puntata appunto Sapete di cosa andremo a parlarvi adesso Vero Omar? Infatti dopo domani infatti Come ben tutti sapete ormai I Maya secondo il loro calendario Simile a quello che usiamo noi della Pirelli Hanno predetto la fine del mondo Mi è piaciuta quella Pirelli E comunque i vari pirla no I geni che hanno paura Che ciò avvenga Hanno deciso di affollare Come ci ha ricordato un gran servizio di studio aperto Due paesini dimenticati da Dio E appunto come annunciava Omar E via che studio aperto ci dedica ore di servizi a proposito Ma secondo te l'orsetto Knut Il collegamento dallo zoo di Berlino Come si sta preparando E cosa ne pensa la farfallina di Belen Studio aperto secondo me Due servizi di questo tipo li fa Le destinazioni sono due Sì allora una è Cisternino Grandissimo e noto paese Della Val d'Itria in Puglia Che come predetto dal guru Babaji Sarà uno dei lembi di terra Che rimarrà in colume Da questa catastrofe imminente E poi c'è Bugarach Sui Pirenai francesi Le cui strade già da tempo Sono state prese d'assalto Dai timorosi di Dio Ecco per dormire in zona Che vi dico che Bugarach ha 200 abitanti C'è uno sputo di paesino Uno sputo di paesino Però se volete dormire in zona E salvarvi venerdì Giovedì 20 Giovedì 20 Giovedì sera A cavallo Potete pernotare in una camera Che guarda direttamente sul magico picco di Bugarach Dove c'è l'hotel a presbiter Ve la cavarete con 60 euro a note A Lì vi salvate Quindi il conto Ve lo pagate Ve lo ciacciate sicuramente Comunque dicevamo Per quelli di Italia 1 Che il mondo finisce prima E propongono Mission to Mars E la guerra dei mondi Mentre Labarale Ruggeri e Bossari Fanno una puntata speciale di Mistero Il grande programma documentario Che a Piero Angela Gli fa una pippa Oh ma tu lo sapete Che anche il National Geographic Si rifà A Mistero Lo usano come fonte Come fonte Primaria Spettacolari Allora io direi Vi svelerei qualche chicca Di paure strane Che abbiamo Negli amici Vicine vicine C'è la paura dei bambini di Halloween C'è una nostra amica Un'amica di Matteo Che se vede i bambini di Halloween Che gli fanno D'accetto e scherzetto Questa schizza Gli metti a piangere E scappa Ecco ma ragazzi Le due paure che mi hanno fatto più ridere Sono due paure alimentari Ovvero la turifobia Paura del formaggio grattugiato Io non so cosa ti possa fare Oppure l'arachibatirofobia La paura del burro d'arachidi Al sulle labbra Ma come si fa Ma ora direi Allora adesso direi che è il momento di Michele The King of Limena La stalla del bue Era un pomeriggio buio e tempestoso di dicembre E il piccolo regista si mise in viaggio Dal suo villaggio verso il castello della piccola radio Saluto al nonno Peter, Heidi, le caprette Montò a cavallo del suo fidato Toyota E partì Posteggiò come al solito alla taverna Maldura Si mise a camminare Ma sentiva uno strano fiato sul collo Si mise a correre in quel bosco underground Fino arrivare al ponte elevatoio del castello della radio Sali di corsa ai gradini Fino alla redazione Saluto a tutti e poi E poi entrò in studio Accese il suo fidato Pentium 4 Donatogli dal mago Pierrot E cominciò a caricare le tracce per la playlist della puntata In attesa di due elfi Matteo ed Omar A un certo punto Omar disse Vado a fare fotocopie E a quel punto la paura diventò Terrore Perché Omar tornò con le fotocopie Le diede in mano al piccolo regista E il piccolo regista si tagliò con la carta come al solito E questa era la sua più grande paura Ecco una storia autobiografica di Michele Tutta di sua fantasia Complimenti Grazie Stavolta ti sei superato Ma comunque dai Torniamo a noi dopo l'appuntamento Bisettimanale con la stalla del V Questa è stata veramente spettacolare E visto che è da un po' di tempo Che non vi consigliamo un film Sarebbe ora di consigliarvene uno Vi consigliamo Cube Il cubo È un film che è costato solo 350.000 dollari Pensate Di impronta kafkiana Di stampo kafkiano E parla di una situazione abbastanza strana Donne e uomini intrappolati in un cubo Formato da stanze Cubiche A loro volta cubiche e comunicanti Una sorta di thriller Un film intrappante Non guardatelo da fumati Perché È disastro Si dorme poco dopo Allora io direi di suggerire P come paura Che non è Melissa P o V per vendetta Di Rosella de Leonibus Interessante viaggio psicologico Nei meandri della paura E come questa ci accompagna Come un'ombra che oscura Gli spazi quotidiani E dopo questi due consigli cinema Cinematografici editoriali Ultimo toic Mamma mia Questa puntata è stata veramente eccezionale Siamo riusciti a dire tutto Cioè a parte aspetta No 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 Mi viene in mente Una delle ultime paure Che non abbiamo detto Allora Abbiamo la Onfalofobia Che è la paura dell'ombelico E la Depnofobia Le chiacchiere da dopo cena Cioè questa è spettacolare Che cacchio è che si caga Adosso per le chiacchiere Che si fa dopo cena Cioè 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 A quanto pare Come quelli cappaboli del formaggio grattugiato Perché sai Il formaggio grattugiato sulla pasta Delle volte fa brutti scherzi Eh sì Prende vita e ti mangi Comunque Guarda io ti dico Matteo Che se il mondo finisce venerdì Io sono contento di averlo finito Con sta puntata Giovedì e stasera Faccio festa Come se non ci fosse un domani Voglio inoltre Ricordare Quali sono i nostri contatti Ottima Allora direi La periferia dei gusti Su Facebook La nostra pagina Sul sito Radio Bue Dove potete vedere Tutti i nostri podcast Il canale Youtube La periferia dei gusti On air Dove vedete tutti i nostri video Ragazzi Vi ringraziamo un sacco Siete circa 800 Alle visualizzazioni Circa 200 I follower Su Facebook Ma appunto Direi anche La nostra mail La periferia dei gusti Chiocciolagmail.com Me lo concedi Il solito La solita chiusura La solita chiusura Con la citazione Dai Omar Soltanto una cosa Rende impossibile un sogno La paura Di fallire Questo era un aforisma Di Paul Paul Paolo Paolo Come fai a non conoscermelo Paolo 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 Chi è che non conosce Paolo Coelho 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 Back to Battle Suoneranno per voi Dalle ore 10 Dalle ore 22 Live in Back to Battle Noi andiamo Vi aspettiamo numerosi Vi vogliamo Non mancate Ascoltatevi Prima la replica Della periferia Alle 8 e mezza E poi venite ad ascoltarci Quindi Comunque signore e signori Io direi che Auguri di buon Natale È il momento di fare auguri Buone feste Auguri Michele Vuoi fare gli auguri in particolare Qualcuno a casa Amici Famiglia Volevo salutare Il mago Pierrot Che mi ha donato Il Pentium 4 Heidi Le caprette E il nonno E niente Questo li hai visti ieri sera Mi sembra di aver visto Comunque allora Ricordatevi che il nostro motto è De Gustibus Disputando Mest Stay Alternative Stay On Air Con la periferia dei gusti Solo su RadioBue.it Ciao ragazzi Buone feste E ci vediamo Se tutto va bene Se venerdì non succede niente Anzi non succederà Siamo venerdì di merda Come al solito La prima o seconda settimana di gennaio Non lo so Decideremo Penso penso dai Potremmo essere Stay With Us Sete Pias Ciao ragazzi Ciao ciao Grazie a tutti Ciao La periferia dei gusti De Gustibus Disputando Mest Autocritica Stranezza Sane ironia 1, 2, 3, 4 Diurpose Grazie a tutti Grazie a tutti Dì